buongiorno sono Laura Antichi oggi vedremo come scaricare l'applicazione che ci permetterà di fare il mirroring del nostro dispositivo mobile sul pc andiamo alla pagina del download l'applicazione si chiama less view e scarichiamo facciamo il download secondo il sistema operativo che abbiamo windows o mac quindi questa è la prima fase scaricarlo sul vostro computer dopodiché scaricherete l'applicazione per i sistemi android o iOS fatto questo andiamo a vederlo in pratica apriamo l'applicazione sul computer let's view apriamo l'applicazione sul nostro dispositivo mobile la prima a prova che faccio è con il sistema android dovete quindi collegare vi verrà mostrato poi un less view che avete scaricato il collegamento cliccateci su vi domanderà dove cosa volete fare phone screen mirroring o computer screen mirroring scegliete phone screen mirroring e fate avvia adesso ecco se vedete che sono connessa ora che ho fatto questo e posso andare sul mio nell'interfaccia del mio cellulare ecco e da qui inizia posso iniziare a fare tutta la navigazione che mi è utile e visualizzandola sul mio pc sullo schermo del pc esempio prendiamo non so io la galleria ecco con le immagini vedete che posso navigare come voglio e aprire tutti i file che voglio visualizzandoli sul mio pc facciamo la stessa operazione con l'ipad apriamo l'Sdv ecco adesso arriva sul nostro ipad facciamo il collegamento dopo aver aperto naturalmente l'app che abbiamo scaricato l'app clicchiamo su let's view che uscirà e ti chiederà anche qui che cosa vuoi fare se il phone screen mirroring e avete bisogno a questo punto comunque con l'ipad di andare nel nel control center quindi dovete switchare per fare il collegamento dovete dall'angolo destra in alto cliccare e trascinare di traverso il pollice e avete duplica schermo vi verrà fuori duplica schermo e vi verrà fuori l'applicazione let's view collegata e quindi si collegherà anche dall'ipad come potete vedere mi sono collegata con l'ipad e anche qui posso navigare nelle varie applicazioni una cosa molto ma molto importante da fare è che tutti i dispositivi siano connessi alla stessa rete per fare il mirroring sul computer